Il Presidente della Camera dei Deputati ha ricevuto il 14 maggio a Roma il Vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, delegato al Comitato Resistenza, con gli studenti vincitori del concorso un video per la Costituzione. Bandito dal Comitato Resistenza, il concorso chiedeva di realizzare un video di 60 secondi su uno degli articoli fondamentali della Costituzione. I ragazzi hanno avuto un lungo e cordiale incontro con il Presidente della Camera che ha guardato con loro i sei video vincitori, apprezzandoli per il lavoro di divulgazione realizzato con un linguaggio adatto ai giovani.